Musica Amici di Telemolise e di Viaggio e Molise, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi il nostro viaggio si ferma a Boiano in occasione del Versacrum, una rappresentazione importante perché è una rappresentazione che riguarda un fatto storico di questa città. Riguarda la nascita di Boiano. Per non perdere questa nuova puntata, noi di Viaggio e Molise vi invitiamo a restare in nostra compagnia. Musica Rolando Giancola, regista per la ventunesima edizione del Versacrum, prima della rappresentazione e la sfilata del corteo per poi effettivamente giungere alla vera e propria rappresentazione. Sì, non so se si sente il rumore, ma sono tutti qui, si sentono tamburi, musiche scroscianti, quindi direi che sono tutti pronti. Forse lo sono addirittura anch'io. Come ha lavorato sulle varie scene? Io ho fornito gli attori per i ruoli principali e gli attori sono tutti allievi della compagnia Elvira, che sarebbe poi la scuola di teatro che dirigo, insieme anche ad altri insegnanti, eccetera, eccetera. Quindi è molto bello perché per loro è un momento performativo, ma anche didattico, perché un attore deve affrontare il pubblico e deve imparare a farlo nei modi giusti e con i giusti crismi. Quindi il Versacrum consente un po' questa possibilità agli allievi attori di mettere alla prova il loro talento per quel che serve. E in questo caso, finora, nelle prove sono stati meravigliosi, quindi sono sicuro che lo saranno anche in scena. Immagino non sia stato difficile, però comunque rappresentare un momento storico così importante non è mai semplicissimo, soprattutto per i vari figuranti, ne sono anche tanti. Sì, dipende, sono degli ambiti che sono più facili, difficili, è tutto molto stimolante in generale. Da questo punto di vista partiamo molto avvantaggiati perché l'associazione Versacrum ha fatto un bellissimo lavoro sia sul copione, sull'accuratezza storica, diciamo, che non è poi un aspetto del quale io mi occupo alla fine. Il mio ruolo è quello di tradurre attraverso la bravura degli attori che ci saranno stasera a recitare e soprattutto tramite anche le nozioni che loro poi mi danno, in scena quello che è poi la storia. Ed è il nostro scopo comune, rendere visibile e concreto qualche cosa che in effetti non lo è. Cioè la storia sono ricordi, ricordi dei quali sappiamo molto molto poco. Però insomma, dobbiamo riuscire, siamo già riusciti e riusciremo ancora meglio, si spera. Claudia Patricelli, presidente dell'associazione Versacrum di Boiano, ventunesima edizione del Versacrum, ormai è diventato un punto di riferimento. No, io sono veramente soddisfatta, non solo io ma anche tutto lo staff delle socie, dei sostenitori, di coloro i quali da anni ci sostengono economicamente. Siamo felici, felici di aver raggiunto questo bellissimo risultato con una partecipazione straordinaria. Quest'anno siamo oltre 400 e non solo nostri, cioè di Boiano ma anche dei paesi limitrofi e delle regioni limitrofe. Sono venuti dalle Marche, dall'Abruzzo, dalle Puglie e anche dalla Campania. Una rappresentazione storica molto importante, un fatto storico importantissimo per Boiano, ma vogliamo ricordare nel dettaglio di cosa si tratta. Il Versacrum rappresenta la fondazione della città di Boiano, VII-VI secolo a.C. Un gruppo di Sabinio e Sabelli, guidati dal loro capo Comio Castronio, lasciò la terra dove vivevano in cerca di nuove terre e con una diaspora alcuni di questi guerrieri guidati da Comio e dal bue, che era il loro animale totemico, arrivarono alle sorgenti del Tifernus e qui fondarono la città di Bovaianum. Ecco, prima della rappresentazione il corteo, poi i figuranti arriveranno tutti insieme dove è stato allestito il palco per le varie scene. Gli attori sono attori locali e non e si andrà a ricreare la vera storia attraverso un viaggio molto emozionante nel tempo. È un viaggio che ci emoziona. Noi ormai siamo alla 21esima edizione, ma abbiamo iniziato nel 1996, ma ogni volta che parte quella musica per iniziare la rappresentazione ci viene la pelle d'oca, perché in effetti è la storia dei nostri padri, quindi la loro partenza, il loro arrivo, i loro riti, il loro esercito scelto, il rito del matrimonio e fino ad arrivare alle guerre italiche, quindi fino alla fine di questo popolo che, insomma, parliamoci chiaro, ne ha date di santa ragione ai romani. Assolutamente. Poi anche le musiche, le voci narranti, i costumi, la teatralità, è stato tutto curato nel minimo dettaglio. Noi abbiamo una grande fortuna che nel corso degli anni abbiamo avuto delle persone che si sono dedicate a noi con grande amore, grande senso di dedizione e di appartenenza. Le voci narranti sono di Edoardo Siravo e di Lombardi, Lello Lombardi. Poi ci sono degli attori di pregio, Rolando e i suoi ragazzi, e anche i nostri attori locali che da anni rappresentano i vari personaggi. Poi abbiamo tanti ragazzi che si alternano nelle figure di guerrieri, di spose. Insomma, è un'emozione, è un'emozione. L'associazione Versacrom cura tutto questo, è la macchina operativa, quindi è tutto grazie all'impegno costante dell'associazione. È un impegno gravoso, diciamo, è un impegno che ci tiene legate tutto l'anno perché non si finisce mai. Però per noi è un piacere immenso e soprattutto un onore rappresentare la storia della nostra città. E io mi onoro due volte perché io sono Apula e ho amato mezzamente questa storia, l'ho fatta mia, partecipe nel mio animo e da anni mi emoziono per la storia dei sanniti che sono comunque di stirpe uguale a quella degli Apoli che stasera abbiamo anche l'onore di avere qui con noi. Ecco, complimenti per quello che lei fa in prima persona da presidente che riesce a coinvolgere anche tanti giovani, tanta presenza della nuova generazione. Questa è una cosa importantissima. Quando abbiamo creato questo Versacrum lo scopo era proprio quello di coinvolgere i giovani e ci siamo riusciti. Ma in questo, devo dire la verità, sono di grande supporto le socie, la professoressa Columbro, la professoressa Michelina Conde, la professoressa Maria Sala, cioè quelle persone che comunque nella loro vita si sono comunque interfacciati con le nuove generazioni e sono trainanti. Quest'anno è anche una novità perché c'è anche un concorso fotografico. Sì, abbiamo pensato, suggerito da una nostra giovane socia, di promuovere anche il Versacrum attraverso le foto e ci siamo uniti all'associazione Controluce. Si è fatta promotrice, ha curato tutta la realizzazione e siamo felici di poter fare un dono a chi comunque ci onora con la sua fotografia. La possibilità quindi di vivere il Versacrum non solo in questa giornata ma anche tutto l'anno, conoscerlo attraverso le fotografie. Sì, perché poi seguiranno sicuramente delle mostre, perché noi non ci fermiamo mai, insomma. E quindi questo sarà sicuramente l'inizio di una bellissima collaborazione perché noi quest'anno, come l'anno scorso, abbiamo fatto un cordone e abbiamo chiesto collaborazione alle associazioni co-partners e quindi ci sono i Lions, le Radici, la Via Micaelica, la Falco, forse dimentico qualcuno, ma sono... Ah, il Rodolfo de Moulen. Cioè, queste associazioni sono co-partners con noi, ci aiutano. Quest'anno, per la prima volta, la professoressa Petracca ha creato anche una giornata di formazione per i piccoli. Li ha praticamente raccolti in una formazione con la presentazione di alcune immagini da colorare e la presenza di un dio, di una dea, del guerriero, della spada. E loro hanno amato profondamente la storia. Quindi saranno i guerrieri del domani. Leonardo Danolfo, uno dei figuranti della ventunesima edizione del Versacrom. Nel dettaglio, cosa rappresenti? Io sarò Comio Castronio per la seconda volta e ringrazio tantissimo Claudia Patricielli per avermi invitato. Comio Castronio, il capo dei Savini. Quindi, ovviamente, sarai a capo di diversi figuranti. Sì, guiderò, diciamo, il mio esercito verso la nostra terra, la terra che il Dio Marte ci consegnerà. Quanti siete del tuo gruppo? Secondo, diciamo, le fonti storiche dovremmo essere 7000. Stasera saremo un po' di meno, però saremo comunque guidati dal Bue Sacro e la destinazione è quella di Boiano, così come vuole la storia. Per te, immagino, ci sia anche un'emozione prima di iniziare la sfilata e poi la rappresentazione in Piazza Grande. Sì, certo, è un evento veramente grande. Sono molto orgoglioso di farne parte e continuo a ringraziare coloro che mi hanno voluto qui.